Ciao ragazzi, benvenuti qua nel mio canalozzo di YouTube di YouTube Oh E avete rotto i coions Oggi siamo su PC E mi sento Amico mio Amico mio E' rotto i coions Ma proprio quelli potenti Sono qua Sono qua Sono già qua raga Ho dipriso valchiri Hello Aia no lo scudo di blackbird no blackbird downstairs no no raga che tattica che ho fatto con valkyrie no porca vacca vado raga a riparare la storia rimarrà gran coyons gran coyons no bello se che viene uno da stars stars scale stars vai l'ha ferito bravo 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 bello non sapevo si guarda adesso assi ok raga siamo secondo round con sledge sledge allora vediamo se qualcuno esce allora la barricata è intatta quindi in teoria no allora spacchiamo amico oh so che sei qui pulse non esci ah non è uscito perfetto ha sparato e basta vediamo che si è convinto ok raga secondo round io mi piazzo la telecamera di solito dove la metto sempre via 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 che ho sbagliato ma dai raga con i comandi comunque non mi trovo devo cambiare il tasto per abbassarmi così non va non si no va addio 15 secondes left bella raga bellissima ho fatto zofia con la pistola non so manco come ma si sta zitto questo se va parla sta ok raga termite per noi ok e assicuriamoci che nessuno esca di qua nel frattempo io salgo qui perchè sono qui dentro ah adonso pulsi mando quando mi apro le scatole raga sui 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 andiamo hanno protetto pure tutto quanto Oh, ecco il bene Eh ma ora andiamo a buscare ora andiamo a buscare ora andiamo a buscare Faccio vedere ok, le diametri suonami e andiamo raga ok raga ho preso legion perchè siamo in barbecue anzi no non chiudiamo ok raga ho preso IQ stavolta è la prima volta che prendo IQ su PC perchè l'ho sbloccata poco fa raga l'ho presa perchè quel bastardo di pulso mi ha rotto le palle anche se non c'è però mi ha rotto le palle lo stesso mai che non ci voglio credere non c'è Oh no 3 gol! 3 gol! 3 gol! 3 gol! 3 gol! Che smettano E aia Oh che è successo Let's go Quanto ho fatto? 10.3 raga Bella, bella Su pc bella Vabbè Spero che il video vi sia piaciuto Tantissima roba Anzi vi faccio vedere che gradi erano questi Io sono oro 3 Spero di arrivare oro 2 barra oro 1 Al più presto Perché insomma oro 3 mi sta proprio sulle palle Oro 3, oro 3, oro 3, oro 3 Questo non classificato Tanta roba Vincere contro 1 non classificato E tanta roba raga Mi da più 101 Va bene Dammi il pacchetto manco se mi pagano Niente raga E' stata bella partita Ci siamo divertiti E al prossimo video Ciao 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 Grazie per la visione